Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Pronti per sapere cosa succederà nella puntata di My Home, ma i destini di venerdì 4 agosto 2023? Iniziamo subito allora. Benal si trova dalla sua ginecologa, che sembra essere anche sua amica, infatti Benal con lei si confida, le dice che il figlio è di Medi, che adesso l'uomo è sposato, e lei non sa come affrontare la situazione. La ginecologa la mette davanti ad una scelta. Tenere il bambino, o interrompere la gravidanza. L'importante è che la scelta venga fatta al più presto, perché i limiti legali per l'interruzione della gravidanza stanno già per scadere. A casa di Medi, sua madre Zelia è sempre più preoccupata per tutta la situazione, sia per l'adozione di Kibrit che per il fatto che l'officina di Medi è ancora chiusa. La donna è seriamente in apprensione, e Medi cerca di consolarla come può, anche se non riesce a rassicurarla del tutto. Zeynep, subito dopo aver tranquillizzato Kibrit al telefono, guardando fuori dalla finestra della sua camera vede Benal disperata che piange da sola in casa. Zeynep è sempre più convinta che Benal abbia qualcosa che non vada, ed ha intenzione di scoprire cosa sia. Contemporaneamente vediamo Byram ancora dormiente a letto dopo la sbronza che ha rovinato l'adozione di Kibrit, la moglie Sakine lo raggiunge, e decide di fare qualcosa di impensabile. Prende infatti un cuscino in mano, e cerca di soffocare il marito con quello. Byram però si sveglia subito, e Sakine nasconde benissimo il suo intento criminale, salvata anche dal fatto che in quel momento irrompe come una furia nella loro camera la madre di Medi, Zelia, con la figlia Mujgan. La donna mette subito in chiaro la situazione con Byram, lui non solo è un alcolizzato senza possibilità di recupero, ma ha anche messo a repentaglio l'adozione di Kibrit, cosa alla quale Medi tiene tantissimo. La soluzione è quindi una sola, Byram deve andarsene immediatamente da casa di Medi, e a Zelia non importa che fine lui possa fare, non permetterà più a Byram di rovinare la sua famiglia. Byram così, arrabbiato, va via da casa di Medi, maledicendo la famiglia e la casa. Poco dopo, Zeynep si presenta a casa di Benal, intenzionata a scoprire il problema della donna e darle aiuto se necessario. Parallelamente, anche Medi sta per avere una discussione importante. Lo vediamo infatti dirigersi verso l'azienda del padre adottivo di Zeynep, Ekrem. A casa di Benal, mentre la donna prepara il caffè, Zeynep si accorge subito di alcuni documenti dell'ospedale appoggiati in salotto. Zeynep, convinta che Benal non sia in salute, non si trattiene dallo sbirciare i documenti, è così che finalmente scopre che Benal in realtà è incinta. Arrivata Benal in salotto, Zeynep riesce a tergiversare per qualche minuto, ma cede subito alla schiettezza, le chiede senza indugiare oltre, se Benal è incinta. Benal è rimasta senza parole, non può far altro che confessare il suo stato di gravidanza a una Zeynep sempre più impaziente. La donna deduce che per Benal questa gravidanza non è una benedizione, avendola vista piangere poco prima. Benal le confessa che è così, questa gravidanza per lei è un problema perché il padre del bambino non è a conoscenza del suo stato, a causa del fatto che la storia tra di loro è finita ormai da tempo. Anche se Zeynep pensa che il padre del bambino possa essere l'ex marito di Benal, la donna la corregge subito, spiegandole che in realtà non è così. Zeynep allora chiede il perché la loro storia sia finita, e Benal non possa informare il padre del bambino della sua gravidanza. Benal non risponde direttamente a Zeynep, ma attraverso i suoi racconti cominciamo finalmente a capire il rapporto tra lei e Medi, e come si siano lasciati tempo prima a casa di Benal. Lei e Medi stanno trascorrendo la serata insieme, Benal vuole parlare con Medi del loro futuro, lei vorrebbe sposarlo e vivere la loro storia alla luce del sole, ma Medi è molto chiaro sull'argomento, a lui non interessa il matrimonio ma Benal sa, e lo dice anche a lui, che questa è solo una scusa. In realtà, lei sa che Medi non nutre lo stesso amore che lei prova per lui, e il non volersi sposare è solo un altro modo gentile di dire che in realtà non la ama. Medi non nega quello che dice Benal, lui prova affetto per lei ma no, non la ama, e non crede di averle mai fatto pensare il contrario. Il ricordo di Benal si conclude con la donna che cerca di elemosinare dell'amore da un uomo che almeno a lei non ha nulla da offrire, rimanendo poi sola con il suo dolore e le sue lacrime. Tornata alla realtà, Benal si ritrova con una Zeynep che vuole sapere chi sia quest'uomo, dove si trovi, e perché ancora Benal non gli abbia detto della gravidanza. Secondo Zeynep non ha importanza di come e perché sia finita la loro storia, è un diritto del padre sapere della gravidanza, e forse la notizia potrebbe anche farli tornare insieme. Benal però le dice che non è sua intenzione rovinare la vita di nessuno, lasciando intendere che il padre del bambino si è impegnato con un'altra donna. Zeynep, infatti, chiede subito se l'uomo in questione sia sposato, ma Benal nega questa ipotesi, non vuole dare troppe informazioni rischiose a Zeynep. Quest'ultima cerca di far riflettere Benal sull'avere o meno questo bambino, per Zeynep è chiaro che Benal abbia le capacità e la voglia di allevare questo bambino da sola, e la sprona a prendere una decisione con il cuore, oltre che con la mente. Benal sembra veramente colpita dalle parole di Zeynep, è vero che lei è a tutti gli effetti la sua rivale in amore, ma in questa occasione le ha dato dei preziosi consigli. Intanto Medi ha raggiunto Ekrem nel suo lussuoso ufficio, da subito Ekrem si dimostra sprezzante nei suoi confronti, ipotizzando che l'uomo sia lì per chiedergli dei soldi, ma Medi mantiene una calma impeccabile, anche davanti alle provocazioni di Ekrem. Medi, infatti, spiega subito le sue intenzioni, si è presentato in ufficio per chiarire il perché Ekrem lo abbia denunciato alla polizia con le false accuse di violenza su minori. Ekrem, non abbandonando il suo tono sprezzante e altezzoso, spiega che vere o false che siano le accuse, Medi rimane un criminale, e quindi denunciandolo lui avrebbe solo fatto il suo dovere da cittadino onesto. Medi, senza giri di parole, detta ad Ekrem le sue condizioni, lui non dovrà mai più avvicinarsi a Zeynep o alla sua famiglia, è finito il tempo delle menzogne e dei sotterfugi, d'ora in poi se Ekrem avrà qualcosa da contestare a Medi, lo farà come un uomo, discutendone direttamente con lui. A Ekrem questo discorso sembra una vera e propria minaccia, e Medi non tarda a deluderlo. Medi spiega che non ha ancora agito con violenza solo perché è legato a Zeynep, ma se Ekrem dovesse di nuovo agire in malafede, allora sì che Medi si vedrà costretto a ricorrere alla violenza. Ekrem non può credere alle sue orecchie, Medi si è appresentato nel suo ufficio per minacciarlo. Chiama subito la sicurezza e fa portare subito via Medi dal suo studio. Nello stesso istante, Zeynep è ancora a casa di Benal, che le informa di essere in ritardo per un appuntamento. Benal deve andare ad interrompere la gravidanza, Zeynep si scusa subito per le parole che ha usato prima, non immaginava che Benal avesse già deciso, e che la decisione fosse proprio quella di interrompere la gravidanza. Zeynep non ha intenzione di lasciare Benal sola in un momento così delicato, ed insiste per accompagnarla. Benal prova a resistere, ma Zeynep non accenna ad esistere, e così Benal è costretta ad accettare. Le due quindi, insieme, si presentano in ospedale per procedere con l'interruzione di gravidanza. Medi, nel frattempo, si è appostato sotto l'ufficio di Ekrem, e a fargli compagnia è arrivato anche Nu. Appena Ekrem esce dall'ufficio, Medi decide di seguirlo in macchina, così da poterlo affrontare da uomo ed avere l'ultima parola. Dopo essere stato cacciato da casa da Zelia e dalla sua famiglia, ritroviamo Bayram che vaga ancora una volta per la città, completamente ubriaco. Il suo girovagare lo porta a cadere privo di sensi sulle rotaie della ferrovia. La situazione di Bayram è sempre più disperata, in avvicinamento si vede infatti un treno che sembra proprio puntare verso di lui. Medi e Nu finiscono il loro pedinamento, seguendo Ekrem, arrivano in ospedale. Qui l'uomo deve incontrare qualcuno in segreto. Ormai però non è tanto più segreto, infatti Medi e Nu scoprono, vedendoli con i loro occhi, che Ekrem è lì per incontrare l'amante e la figlia segreta. Mentre Benal si trova già in sala operatoria, in attesa di cominciare la procedura, Zeynep è nella sala d'attesa dell'ospedale che la aspetta. Zeynep, Medi, Nu ed Ekrem non si incontrano all'interno dell'ospedale, ognuno ha infatti i propri pensieri, soprattutto Zeynep, che non riesce a trattenersi e decide di correre verso la sala operatoria per interrompere l'aborto di Benal, prima che sia troppo tardi. Zeynep ci riesce, e interrotta la procedura, cerca di convincere Benal a tenere il bambino. Zeynep le dice che anche se il padre biologico del bambino potrà non essere presente, lei e Medi ci saranno sempre per Benal. La donna sente di non poter più mentire a Zeynep, e sembra quasi sul punto di confessare tutto alla ragazza, ma Benal le dirà veramente che Medi è il padre del bambino? Rivediamo Zeynep davanti alla psichiatra che racconta di come la percezione che ognuno ha di se stesso cambi in base al punto di vista. Ripensando alla Zeynep del passato, quella del presente la descriverebbe come onesta e coscienziosa, altri invece la descriverebbero come bugiarda e colpevole, sempre in mezzo tra due vite. Zeynep si domanda ancora quale sia il suo posto, e se insieme alla famiglia di Medi lei possa trovare un posto dove essere accettata. Così si chiudono queste anticipazioni di venerdì 4 agosto. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Grazie, a presto!